E' il nuovo gioiello degli impianti sciistici di San Domenico di Varzo e da un'unica gemella al mondo. Ecco in anteprima la seggiovia SBK6 Bondolero con arrivo a 2488 metri. C'è solo un'installazione a Lax in Svizzera, quindi questa è la seconda installazione al mondo. Ormai siamo addirittura ad arrivo per quanto riguarda i lavori e contiamo di essere pronti per la stagione invernale, quindi per il Ponte dell'Immacolate di avere l'impianto funzionante. Una novità mondiale non solo perché si tratta di una seggiovia 6 posti con seggiole design Porsche, quindi super confortevoli, ma anche perché sono seggiole ruotanti, vale a dire lasciata la stazione di valle, quindi la stazione di partenza, le seggiole effettuano in automatico una rotazione di 45 gradi, quindi questo consente di usufruire di un'esperienza di viaggio completamente diversa perché va a scomparire quella che è la visione della linea, dei veicoli precedenti e dei piloni e ci si può concentrare unicamente sul panorama che tra l'altro qui come potete vedere è fantastico perché si avrà la possibilità di vedere tutta la conca del Devro, Codelago, Crampiolo e poi salendo, man mano che l'impianto sale, il Pizzo Diei e quindi sicuramente un paesaggio da sogno, si può dire, sia in inverno che in estate. Questo impianto è un po' il proseguo di quello che sono stati gli interventi fatti negli anni scorsi per quanto riguarda la parte impianti, sempre da qui si può vedere l'arrivo della CD4 Ciamporino Dosso che è un impianto che ormai è in funzione da un paio di stagioni e consente di raggiungere la zona da Ciamporino fino qui al Dosso, quindi da quota 1.930 fino a quota circa 2.500, anche quello è un impianto ultramoderno, quattro posti coperto e all'arrivo abbiamo appunto questa nuova struttura che si integra perfettamente nel paesaggio e quindi sarà sicuramente avvenire non solo per l'inverno ma anche per la parte estiva un punto di riferimento. In concomitanza con la nuova seggiovia Ciamporino Dosso, la creazione di un deposito interrato all'Alpe Ciamporino per le sedute, struttura perfettamente integrata con l'ambiente. Recentissima anche la seggiovia fissa per il Campo Scuola e Principianti, molti poi gli interventi per migliorare la sicurezza degli sciatori. In funzione dallo scorso anno pure l'impianto di innevamento artificiale sulla pista Casa Rossa San Domenico che quest'anno con la nuova illuminazione offrirà l'esperienza dello sci notturno.